vai rebolando piroga, non si maloca, ma è gostoso, gioco toma no piruto fa bella vai, che cosa fa, o caraglio, vai, che cosa fa, o caraglio, vai, che cosa fa ciao a tutti, ragazzi, sono Bebby, concierto, qui in un nuovissimo video ciao a tutti, ragazzi, sono Bebby, concierto, qui in un nuovissimo video, insieme a Dingion, una sfida tra cecchini su e in creativa io contro Dingion, si inizia, e ora è sparando, è certo, è orico 2 io non sono caldo, e chi lo dici, ragazzi, prima ho fatto un video di data male soprattutto, perché io non sono bravo, cioè, se vuoi qualcosa te lo faccio ora non riesco a prendere le grandi ma se tu ti prendi le grandi appena raggiunto il limite dal set, cosa che facciamo? ah, capite, ma basta, buildare? eh 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 comunque tu all'inizio ti ho finito come sono andato lì so, sì, ti ho visto, mirato pensavo di non prendere, infatti stavo per sembra giusto, mi sono buttato, però sbaglio ma perché ho un rampino e poi io stavo spartato, ho fatto con cecchino, poi sono due non so come ho fatto a non prenderti e... poi ho swizciato solo che ho swizzciato al rampino il rampino è un po bagliato io ti sto recuperando non lo so io sto buildando a caro cioè in te stavo cercando ho mai chiesto di altro? è perchè stavo all'era mi stavo allenando a fare una cosa poi vedrai nel video le pipe ci si deve allenare giustamente si deve scendere aiii 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 orco2 ma quanto evitai? mi sono bloccato non è vero mi sono caduto non è vero no 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 sono caduto io in fondo? quasi no dove sei? vado qui ah gioca al video ma ce l'ho un build vado ho mancato sempre ma rimane un'altra perchè non mi ha abitato o ho laggato? no no mi ha giocato si gli auricolari oh raga ce l'ho fatta fare quello che volevo fare a calo e porco2 20 di vita io ho fatto questo ma com'è che ti sugo? ah no mi sono caduti tutte le auricolari e a me lagga c'è ok con 57 di ping però laggo raga io ho 58 di ping e porco2 però no no buon giorno siamo seri? siamo seri? oh ma ecco mancato non è io cerco di trappare ma con la trappola che non c'ho ma c'hai le trappole? eh? tu le trappole? tu? ma posso dietro di me? cos'è che hai detto Diego? ma hai le trappole? no io eri ho morto no i scheri di Nicholas ok adesso sono in serio dai stai scherzando? no movimento non vuole farsi di cara cheat e faccio serio adesso dove sei? ah ma tu sei? sicuramente no un palizzo santo urgo 2 che cazzo hai fatto? oh peresità tu mi hai tacchi in testa no 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 non sto cadendo perché ero arrivato a live dove sei? perche devo dire che dove sei? nessuno porco 2 ehi ehi non sta vestire si ah ma già che non sono ehi scami no perché non mi da ti è caduto giù giù? no sono sotto di te no ragazzi stavo per fare un fake che imposto stavo a perdere di vita amici stavo beccato no che mi hai beccato ero morto ma scari per favore sparo c'è venuto stavo 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 oh ma l'è col problema sia quando ho registrato uno scarcio a sfida tre cecchini anche ninja ha detto rai quaza rai quaza un poker ma tu come cazzo fai a pigliare le grado così veloce come cazzo ah ma non ero one shot morco 2 troppo forte non sei stato più svelto di me ti vedevo poi ti ho visto e bilda voglio mettere il caccia per favore e sbucciare il caccia e perché lo mettiamo in Italia bilda oh tocca tutto direttamente oh scolo 2 che non bilda che non bilda posso dire una cosa? mi è fatto prendere un infarto ragazzi se volete il venerdì se faccio le live ditemi se volete una live sfida tra cecchini con ninja lascio il sondaggio qua in alto a destra ma ogni volta che ti dirlo devo capire ma dove sei adesso? non lo so orco 2 che cazzo è una ninja sono amiciato dal terzo orco 2 come faccio a risalire? avevo faccio la lampa così stai facendo sto imparando a fare i 90 gradi? ma dove sei bomber? tu sto facendo ti pare che non ti sento? a porco 2 però non mi builda ma raga non so perchè non mi builda guarda dio come builda a caso a caso? mi buildo che non devo buildare giù ci hanno giù ci hanno rampicato? No, per favore, dai, dai, mi sono rampito, mi sono rampito Oh, mi dai il tempo di utilizzare un rampito che sono nabbo a utilizzarlo No, sono scavuto di più Oh, ti devi far rittare Vado in caso di lei Non sono perduto di nuovo Oh, fa rittare Fa rittare, stai fermo Ma che fa rittare? Tu hai detto, piai rampino, per colpa tua mi sono fatto rittare Oh, ma ti stai fermo? Ho detto, piai rampino, per salire Io capì, te non mi hai neanche tempo di svicciare Ho capito, ho detto, hai anche il tempo di mangiare No, amiche, sto a bricadere Ho visto Anch'io Ciao Ciao Vedi che mi dici Ciao 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 Ma che casetto di queste costruzioni? Ciao No No Wow No io che ci sono solo 4 no porco di ciao quando facendo un video che ti lascio il video va bene saluta ti sono anche diego ti saluta ma dove sei? mi chiamano lì 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 no nel tutto eeeh urq2 ma c'è basso? eh schizia ah 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 4 4 4 5 4 4 oh ma sto facendo il video ti ricordo eh e sui giochi eh ci arrivo forse ma io stavo bildando ma anche stavo sparando perché l'ho detto oh dai mi son bloccato da solo raga l'ultima kill e poi boom no sei graduto non ci credo micchie se la vicino su questo raga no basta e farmi cadere no a me raga io il video finisco qua e niente io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video da me e il video no vabbè però prima di salutarvi ricordarvi di lasciare un bel mi piace iscrivervi al canale e condividere il video e iscrivervi ai commenti a stagli eeeh aspetta mi sono diventata una cosa ah seguitemi su instagram link in descrizione eeeh si che lo metto lo metto sempre e tu che non guardi la descrizione vuoi vedere gli altri video che li metto sempre solo che mi dimentico sempre ogni volta di dirlo e quindi niente vabbè io vi saluto ciao ciao